Ben ritrovati Ottoliner, stasera ci riabbiamo la mia intervista preferita di sempre con il mio nonno adottivo, il generale Fabio Mini, che ringrazia tantissimo per essere tornato qui da noi, è sempre un grandissimo piacere e soprattutto per me era anche un po' un'urgenza perché insomma di fronte a tutto quello a cui abbiamo assistito più o meno insomma nelle ultime settimane e io avevo proprio bisogno di sentire un po' cosa ne pensava lui che è insomma abituato a mettere insieme considerazioni di carattere geopolitico, a considerazioni anche più strettamente militare, tecniche anche militari insomma che sono abbastanza importanti in questa fase qua da capire profondamente e quindi io inizierei subito alla prima domanda che ti farei è appunto riguarda le affermazioni di Macron su l'impossibilità ormai di escludere Tukur l'intervento diretto di truppe NATO nel conflitto in Ucraina. È una butade, è una provocazione, è una cosa estemporanea oppure appunto ci rivela diciamo un dibattito profondo che sta avvenendo diciamo lontano dalle telecamere? Beh tutti l'hanno presa come una butade, poi è quello che mi ha insospettito molto è stata proprio la negazione assoluta, no in ambito NATO non se ne parla, in ambito Europa si esclude, tutte queste cose. Quanto ci sono tutte queste rassicurazioni che sono gratuite? Perché in effetti la situazione è difficile soprattutto per l'Ucraina, la situazione non è sbloccabile a breve termine E poi c'è quello che tutti vedono e che Macron ha avuto la bontà di rivelare a tutti quanti dal suo pulpito che l'Ucrania non ce la fa, non ce la può fare. Cioè la vittoria senza l'intervento delle truppe straniere sul territorio ucraina lui da solo non ce la può fare, lui non lo dice questo, anzi Zelensky dice che ne farebbe volentieri a meno delle forze in campo ucraino Perché sarebbe proprio come riconoscere la propria impossibilità nel mantenere quel tipo di promessa che è andato in giro e ha coinvolto tutto il mondo in questa avventura. Per cui il ragionamento di Macron è avventuristico nel senso che lancia una grossa provocazione ma non è irrazionale. Allora perché se la razionalità sta nel fatto di considerare che Zelensky non può vincere e che tutti noi europei e americani abbiamo scommesso solo sulla vittoria dell'Ucraina Bene, allora a questo punto bisogna dare atto a Macron di aver detto o aver lanciato o non aver escluso il fatto che per conseguire o almeno tentare di conseguire Perché qui sta il difetto del ragionamento diventa irrazionale. Comunque tentare di influire più direttamente nel conflitto, entrare praticamente nel conflitto aperto e vedere di rimuovere le cose. Dove sta il punto vulnerabile? È che per riuscire, non dico a vincere, ma a intervenire con una certa efficacia bisogna andare lì con molte truppe che noi eserciti Nato non abbiamo. Bisogna andare lì con una capacità di pensare a un conflitto che non si risolve nel giro di quattro giorni, che va avanti e anzi dura ancora di più. Si deve andare a considerare un conflitto che non è più a livello convenzionale puro. Comincia a diventare convenzionale e ibrido, nel senso che ci vogliono anche, e c'è la possibilità, che si ricorra agli armamenti nucleari tattici. Ora, questi sono gli aspetti così problematici che non fanno figurare bene questo tipo di approccio, ma non è colpa di Macron, è colpa nostra, è colpa di tutti. Voglio dire, se noi, come abbiamo fatto anche adesso noi italiani, così come avevano già fatto Gran Bretagna, Francia, Olanda, tutto il resto, in questi accordi bilaterali con l'Ucraina, di assistenza militare e di cooperazione militare, guardate che però nelle parole, lì dentro ci sono delle cose anche molto esplicite, cioè non si parla soltanto di andare lì adesso e di prevenire le future invasioni della Russia, come si è detto. No, lì c'è senso anche che bisogna intervenire adesso per vincere e battere la Russia e questo significa entrare veramente in conflitto, in conflitto aperto, con tutte quelle valorabilità che ho detto. Quindi stiamoci attenti anche perché Macron parla, è vero anche per motivi suoi interni, ma parla dicendo delle cose che all'orecchio della Nato e all'orecchio di tutti gli altri e anche degli stessi americani suonano un'altra musica, che non è soltanto quella di dire facciamo una butada. Senti, nel frattempo si sta svolgendo la grandissima esercitazione, la più grande dalla fine della guerra fredda, Steadfast Defender, mi sembra che si chiami se non mi ricordo male. Che rapporto c'è tra queste cose? Un'esercitazione di quel tipo lì può essere anche un preparativo a poi stabilizzare delle forze? Che relazione c'è tra l'idea che comincia a ventilare l'intervento e un'esercitazione di quelle dimensioni lì? È diretta, è un'influenza diretta, nel senso che queste esercitazioni servono principalmente a valutare la bontà o l'efficacia delle pianificazioni. Io siccome sono vecchio e ho partecipato a tutte le esercitazioni di quel tipo e anche di quella portata che si facevano annualmente, io addirittura nei due anni che sono stato in America con la divisione americana sono venuto in Europa per le reforger, si chiamavano, perché la divisione americana nella quale io prestavo servizio era la divisione di riserva del quinto corpo d'armata americano in Italia, per cui questa doveva intervenire subito dopo. L'ipotesi che tutti quanti avevamo pianificato era che comunque l'attacco russo, sovietico quella volta, sarebbe arrivato già al centro della Germania. La mia quarta divisione meccanizzata era un'unità da combattimento che stava alla soglia di Fulda, che è vicino a Strasburgo, quindi ben dentro la Germania. Bene, queste esercitazioni che fra l'altro, quelle a quale partecipevamo durante la guerra fredda, erano più o meno fatte a pezzi, ma molto concentrate nel giro di una quindicina di giorni. Queste invece va a pezzi, ma un pochettino più alla lunga, ma comprendono i pezzi tutte le possibili pedine della manovra, per cui ci sono esercitazioni, si fanno esercitazioni e nelle esercitazioni il primo scopo è quello di verificare la pianificazione. Non è che si va lì e si inventa, non è che si fa il gioco libero. Ci sono le esercitazioni War Games in cui uno dice adesso mi presento, adesso facciamo finta che questo è un nemico, mettiamo uno a fare il nemico e il nemico poi fa come gli pare, come la 2001, che è stato uno sfacelo per le truppe americane, perché si sono trovati davanti un generale che non la pensava come doveva pensare la dottrina, la pensava come la pensava lui e questo qui ha cominciato a fare delle azioni che non erano previste, non erano previste. Allora le esercitazioni, la 2001 Millennium, si è dovuta fermare perché non andavano più avanti. No, qui invece ci sono le pianificazioni, ci sono anche le ipotesi di pianificazioni, cioè di adeguamento delle pianificazioni alla situazione contingente e quindi si testano e si fanno queste cose. Ora, è vero che si tratta nella finzione dell'esercitazione, non si parla di Russia, non si parla di Ucraina, ci danno sempre nomi fittizi, ma la pianificazione parla invece di quello che è. Il partito arancione è esattamente quello e quello che si vuole fare durante questa esercitazione è pezzo per pezzo. L'aeronautica fa determinate esercitazioni, attacco al suolo, concorso con le forze terrestri, oppure attività di interdizione, interdizione significa prendere e mandare gli intercettori molto lontano, quindi ci vogliono spazi anche molto grandi. Cosa si fa per sostenere gli alleati? Qual è la porzione di territorio nel quale devono combattere gli alleati e quale no? Si sta alle frontiere e poi soprattutto c'è questo grosso aspetto della parte delle esercitazioni che sono le comunicazioni e queste comunicazioni, così come controcomunicazioni, sono cose che influiscono anche direttamente sugli assetti dell'avversario. Io mi ricordo, guardate, ho ancora vivido il ricordo dell'esercitazione Abel Archer del 1983, perché io ero lì, ero lo Stato Maggiore e vedevamo i sistemi di allarme e anche gli allarmi che venivano dati alle nostre truppe. Beh, per la Abel Archer, per delle simulazioni che facevano gli americani, che poi tanto simulazioni non erano, si sono allarmati i sovietici veramente e se non c'era quel tizio, il senente colonnello russo che non credeva alle macchine, così meno male che avevi dubbi, qui eravamo già fritti, fritti, cotti e fritti. Quindi durante questa esercitazione ci sono un sacco di comunicazioni che viaggiano dal livello strategico al livello operativo, quindi dal livello armate o gruppi di armate o della NATO, quindi Secure è il comandante in capo, cioè il comandante strategico comanda tutta l'operazione. Da lì ai comandanti dei corpi d'armata, dai corpi d'armata alle divisioni, che sono rappresentate sul terreno, perché si dislocano posti comando divisionali, si arriva fino ai posti comando di battaglione e ci sono poi delle piccole esercitazioni che sono a tipologia, anche a livello minore, compagnia, battaglione, fanno qualche esercitazione in un poligono, in un'area in cui non si va a rompere le scatole delle cose, ma tutto il resto poi viaggia nell'essere alle comunicazioni. E io ricordo bene come è andata a finire quella parte di esercitazione durante l'Ebol Harsher. I sovietici hanno intercettato le comunicazioni e hanno detto che questi ci stanno bombardando, questi ci stanno mandando i missili, poi sono arrivati sistemi di allerta che hanno mandato segnali su un effettivo lancio di missili nucleari, tutta roba che viene innescata anche soltanto così. Quindi l'esercitazione è un'esercitazione che è ripresa, perché questo è il tipo di esercitazione, che costano una barca di quattrini, ma erano state sospese proprio per non andare a sfrugugliare nelle percezioni di un potenziale avversario. Se sono state riprese oggi, era stato pianificato anche prima che venissero queste esercitazioni, ma come abbiamo sempre detto noi, io e te, caro Giuliano, questa guerra non è cominciata il 24 febbraio, è cominciata nel 14, quindi è dal 14 in poi che già nel livello della Nato si vede la Russia come un avversario militare, negli ambienti militari, e si prepara un tipo di azione o risposta o controrisposta o di iniziativa anche militare. Per cui è una cosa grossa, nel senso che se questo livello di operazioni è stato ripreso vuol dire che c'è prima la preoccupazione, secondo c'è la mancanza di fantasia, perché questa qui è una risposta che noi abbiamo usato per 40 anni, 50 anni durante la guerra fredda e non ha funzionato. Senti, un altro aspetto importante è che è collegato più alle dichiarazioni di Macron che non all'esercitazione, dove si lavora in modo congiunto, non mi sembra che ci siano fazioni diverse. Invece quello che è successo dalle dichiarazioni in poi è stato un po' venire a galla un pochino, e era già successo anche nel dibattito per la corsa al riarmo, insomma una certa divisione all'interno dell'Europa, che tra l'altro è una divisione anche un po' diversa rispetto a quella di cui credo abbiamo anche già parlato insieme a te di inizio guerra, che era un po' questo spostamento del baricentro dell'Europa verso la nuova Europa rispetto alla vecchia Europa. Qui sta succedendo qualcosa di diverso, insomma qui si sembra più fratture tra Francia, Germania e Gran Bretagna che è la tua grande passione di sempre, no? Con appunto Scholz che si rifiuta di mandare i Taurus e nel rifiutarsi di mandare i Taurus appunto lo giustifica dicendo che significherebbe mandare i nostri uomini lì e non lo vogliamo fare al contrario di Francia e Inghilterra che ce ne hanno già mandati, a cui poi è seguita la cosa delle intercettazioni che però ti chiedo dopo, intanto ti volevo chiedere appunto una riflessione su, a livello di equilibri e di rapporti tra i paesi del vecchio continente, secondo te queste ultime due settimane cosa hanno rivelato che magari non era esattamente quello che sapevamo o che avevamo capito? Beh c'è in effetti la percezione che quelle piccole fratture, quelle piccole incrinature che si potevano verificare, vedere prima, ma più che altro a livello politico, poi a livello di dichiarazioni si siano trasformando in fratture vere e proprie di alleanza, non è così, perché in effetti io ho sempre visto che quando ci sono questi episodi, soprattutto se c'è un rischio concreto e si è consapevoli del rischio concreto e si vuole comunque andare avanti, sono tutti d'accordo non dico che sono tutti d'accordo, nessuno può essere in disaccordo, non può essere fatto perché tutti quanti stanno aspettando e guardando a cosa succederà negli Stati Uniti perché quello è l'elemento fondamentale, dalle elezioni se viene fuori un altro cambiamento di linea strategica degli Stati Uniti, tutto l'assetto NATO va a carte 48, va per aria, non c'è altro per cui se per caso, io faccio l'ipotesi, venisse in mente a qualcuno in Russia, visto che questi vogliono fare la guerra contro di noi, non è vero, ma ammesso che ci sia un passo che a un certo punto dice vabbè allora facciamo un attacco preventivo noi, guarda che la NATO si muove tutta insieme ma soprattutto si muove a livello strategico, non è che può pensare la NATO di andare a fare una cosa del genere partendo dal livello convenzionale, non si può, non ce la fa, non c'è, noi pronto intervento abbiamo 40 mila uomini a livello della NATO, poi abbiamo gli eserciti nazionali ma gli eserciti nazionali sono ridotti al lumicino, a partire da quello tedesco, quelli inglesi non ne parliamo neanche, gli inglesi fanno delle grandi cose contando sugli altri e contando sulla loro leadership degli altri, considerando che quegli altri, in pratica nell'ambito della NATO tutti i paesi dell'area baltica, compresi i nuovi arrivati, quelli facciano esattamente quello che vuole l'Inghilterra, ma io non so se ti ricordi quando si parlava della Finlandia che entrava, della Svezia che entrava nella NATO, io ho detto guardate da un certo punto di vista io ci spero, perché io li conosco, questi quando si tratta di stare tutti insieme va bene, ma quando il pericolo è sulla loro testa e il resto dell'insieme non è sicuro che intervenga e loro sono i primi a dire no, non andiamo verso questo rischio, è inutile che il generale e il ministro Estone faccia più il guerriero e il guerrafondaio, quando si tratta poi di vedersi i carri armati in casa la cosa è difficile e non essere sicuri che la NATO poi riesca a intervenire è un'altra cosa, ecco anche nelle parole di Macron c'è secondo me questo risvolto, noi nella NATO dobbiamo dare dei segnali perché queste fratture, queste piccole ricolle non diventino dei crack forse. Chiaro, chiaro, senti a proposito sempre di fratture, poi appunto l'evento successivo che c'è stato è stato questo affair dell'intercettazione della conversazione tra due generali e due tenenti colonnelli della Bundeswehr, uno quanto secondo te diciamo è importante il contenuto che è emerso da quelle intercettazioni, due se il fatto che siano immerse queste intercettazioni ci può far venire qualche sospetto che ci sia qualche frattura interna alla Germania, spesso si parla appunto di fratture tra Scholz e un pezzo, sostanzialmente e le forze armate. Beh, questa è a parte il valore in sé dell'intercettazione perché poi a me mi fa ridere che cominciamo a dire i russi si hanno intercettato e quindi stanno violando la nostra privacy come se fossimo lì noi a dargli, non so, le noccioline, gli hamburger. Quindi questa è già una cosa che fa ridere. Quello che si vede è che si vede, ma io penso che nessuno poi lo colga o l'abbia capito o lo capisca perché non a livello nostro, a livello militare, ma a livello proprio di opinione pubblica e soprattutto di leadership politica. Quello che traspare è che c'è sempre, ma è sistemico, uno strato non perfettamente combaciante tra la parte politica e la parte esecutiva militare. Guardate, io ho detto sempre, i militari vanno avanti a forza di pianificazione, di piani, di scenari e di realizzazioni pratiche a questo punto. Tutto quello che viene fatto nel livello politico può avere un'influenza, va bene, le direttive politiche se non sono chiare e non sono cose, se le fanno loro, ce le facciamo noi da soli le direttive, perché abbiamo noi la visione in relazione a quello scenario. Quello che si vede in questa cosa in Germania è che Scholz non ha capito come ragionano i suoi militari, ma non ha capito come ragionano nessun militare, ma anche Macron non ha capito come ragionano i militari. Quando Macron fa una frase di questo genere, non ha capito che i suoi generali, non ha capito, che i suoi generali è da dieci anni che stanno pianificando la guerra nucleare contro qualcuno. Fa finta di non capire? Forse fa finta di non capire. La stessa cosa Scholz, ma Scholz cosa crede? Che oggi annuncia che gli mandiamo i Taurus e prima che lui lo annunci non ci sia stato già qualcuno che si è messo d'accordo su come fare per fare. Se arriva l'ordine, noi come facciamo? Tu come fai a utilizzare i Taurus che non sai una madonna di niente di questi sistemi d'arma? Che ci vuole un mese prima di farti capire come funziona? Che non è un sistema che ti possiamo dare, tu spingi un bottone e gira una ruota. No, non è così. Quindi in previsione che il politico a un certo punto sia costretto a darti la cosa, qualcuno è già pianificato e qualcuno ha già telefonato. Come no? Ha telefonato, sarà andato lì, ha fatto le ricognizioni e è andato a vedere a che livello sono rimasti i militari ucraini, a che livello di morale sono arrivati. Andare a assaggiare se questo invio tecnico, che è tecnologico, di armamenti influisce sulla leadership ucraina. Sono in grado loro di gestire questo tipo di armamenti? Nel momento in cui sparano due missili Taurus e quelli fanno i danni e quelli dall'altra parte reagiscono, che fine fanno i lanciatori di Taurus? Che fine hanno fatto tutti i lanciatori multirazzo americani che sono stati dati? Sono stati dati che questi sono stati costretti, per un po' hanno fatto qualche azione e poi sono stati costretti a nascondersi e non sparare per niente perché altrimenti li fanno fuori, ne hanno fatti fuori alcuni e così via. Quindi a livello politico si può ragionare e noi purtroppo stiamo seguendo troppo il livello politico, il livello delle chiacchiere, il livello degli accordi che poi tutti sanno che non potranno essere rispettati. Perché voglio vedere io poi quando si tratta veramente domani mattina di mandare una squadriglia di aerei a sostegno dell'Ucraina, voglio vedere cosa succede il giorno dopo. Sempre a livello di dialettica interna all'Europa, noi c'è stata questa questa un po' diciamo un pochino si era un po' sopita la faccenda, almeno a livello di esposizione mediatica. Il dibattito intorno all'Ucraina era un pochino un po' sottocenere da un po' di tempo. Poi c'è stata la questione di Advitka, tra l'altro poi magari ne parliamo anche perché c'è tutta la questione di questa polemica sulla mancanza di una seconda linea difensiva che sta permettendo ai russi di procedere, anche se devo dire qualche giorno che non sto leggendo robe proprio specifiche su questo. Ma a parte questo c'è stata appunto anche lì mi sembra di aver percepito una certa dialettica tra due scuole di pensiero diverse che poi in qualche modo la von der Leyen con la risoluzione ha cercato in qualche modo di mettere insieme, che è una francese sostanzialmente, che in qualche modo coglie l'occasione della necessità del riarmo per dare un po' di benzina all'industria nazionale in questa fase dove soprattutto con le nuove politiche protezionistiche statunitensi tutti gli investimenti europei in realtà li stanno facendo tutti negli Stati Uniti perché ci danno un sacco di soldi e quindi non c'è motivo per farli in Europa. E dall'altra invece diciamo c'era, che però anche lì c'è stato un qualche cambiamento, comunque appunto la cordata lanciata dalla Cecoslovacchia, poi insomma adottata dalla von der Leyen, di armarsi, cioè per armarsi andare a comprare la roba fuori, quindi sostanzialmente sembra quasi che da un lato l'obiettivo sia un pezzo, far crescere la componente di economia di guerra a fini economici nazionali e dall'altro invece sia la guerra in quanto tale in qualche modo. Quindi abbiamo parlato tante volte in passato del mega progetto polacco appunto di grandissime spese che però poi si è un po' arenato sulla resistenza delle banche coreane, se non ho capito male, insomma ci sono stati un po' di problemi per trovare i fondi. Davvero però era tutto fondato sul comprare un sacco di roba da fuori, tra l'altro roba che i polacchi non riuscirebbero nemmeno a gestire autonomamente, se ho capito bene, che avrebbero sempre bisogno di molta assistenza statunitense per le comunicazioni, per le individuazioni degli obiettivi, eccetera. E quindi mi chiedo un pochino, di nuovo da questo punto di vista qua, come interpreti te se c'è appunto questa dialettica all'interno dell'Europa e come la interpreti tra chi punta di più a far qualche quattrino e chi punta invece di più a come priorità diciamo agli obiettivi strategici militari. Tutto questa agitazione, queste mosse contro mosse, contro affermazioni e contro affermazioni fa vedere essenzialmente che non solo noi come Occidente abbiamo scommesso sull'Ucraina per la vittoria ucraina, abbiamo scommesso anche sul riarmo intero dell'Europa e quindi nella fattibilità, nella sostenibilità di questo riarmo e soprattutto abbiamo scommesso e stiamo scommettendo anche le butande nella ricostruzione dell'Ucraina. Ovviamente più l'Ucraina si distrugge e più sarà intenso il guadagno, grande il guadagno di quelli che dovranno ricostruire, perché già adesso si parla di trilioni di dollari e poi si parla di tempi lunghi anche per la ricostruzione. La ricostruzione non è soltanto rimettere in piedi quello che si è rotto, ma è anche approfittare della ricostruzione per fare un salto di tecnologia, un salto tecnologico in avanti, quindi avanzare. Non si possono ricostruire le scuole di prima, ricostruiamo quelle moderne con i sistemi moderni, ospedali, infrastrutture in genere ed è una cosa infinita. Ora queste tre scommesse in questo periodo, ma per poi a causa o grazie soltanto a piccoli vantaggi conquistati sul terreno, perché Abiepka che è tutta quanta adesso, è come è stata prima la controffensiva che non partiva mai, quindi sono piccoli segnali e su questi piccoli segnali si articolano dei grandi schemi. Lo schema oggi che viene fatto nei riguardi del riarmo europeo è fondamentale, perché il riarmo europeo è visto nella ipotesi, non peregrina, che l'America dica agli europei pensateci da soli e comprate da noi, ma dovete fare voi le cose. Non è uno sganciamento dalla Nato alla quale io non credo perché gli americani hanno più bisogno loro della Nato che noi degli americani, ma comunque questo è. E quindi in questa serie di guadagni facili visti a breve termine c'è un grande misunderstanding, anche qui non si capisce com'è la cosa. Ora, sembra possibile che i verdi e così, gli altri che predicavano lo sfacelo ambientale, la grande fretta, l'urgenza della transizione ecologica, non si siano mai resi conto che nel momento in cui tu punti sulla guerra per poter fare la transizione e anzi punti sulla guerra per accelerare il passo della transizione, non ti rendi conto che in quel tipo di guerra, con la guerra che hai fatto, quello che serve è quello che invece bisognerebbe abbandonare. E di fronte a questo ovviamente c'è anche la grande corsa di quelli che devono provvedere gli armamenti. Chi adesso si muove in maniera più attiva? I produttori di armamenti convenzionali, i produttori di armamenti che hanno un grande impatto energivoro, consumano benzina a non finire, cioè sistemi che, non i nuovi sistemi, ma quelli vecchi, perché per la guerra serviranno quelli. E allora le industrie che pensavano anche se stesse di essere sorpassate dalla tecnologia e dal futuro e delle riconversioni, invece si devono mettere lì e ricominciare a fare le stesse cose che si facevano 50 anni fa. Bene, anche questa è una visione mio, perché se punti su questa ricostruzione e quindi punti anche sulla disponibilità, l'acquisizione di mezzi finanziari per poter sostenere tutto, poi devi andare a verificare se questi mezzi finanziari e questi mezzi economici ci sono. Le economie occidentali e soprattutto quelle europee sono alla canna del gas, è inutile che stiamo qua. La Germania che è stata sempre e deve essere la locomotiva europea, la locomotiva europea va a carbone, non è elettrica, niente, questa locomotiva europea va a carbone, tra virgolette voglio dire nel senso metaforico, ma è una cosa… E infatti nemmeno troppo metaforico, va a lignite anzi! Si, va a carbone, va a lignite! Quindi io ti dico la verità Giuliano, io sto vedendo il periodo con gli occhi di un vecchio, intendiamocelo, perché è inutile, quindi i miei punti di riferimento sono punti vecchi, però vedo una cosa che non c'era prima, anzi c'è stata, negli ultimi cinquant'anni ci sono stati due o tre episodi, ma non una tendenza così forte verso la follia. Qui c'è veramente una specie di nichilismo assoluto nel quale tutti quanti pensano e non si preoccupano, ma io vado in giro e dico guardate che l'opzione nucleare non è vero che è un blef, è un'opzione che poi dopo non si verifichi, noi lo speriamo e non ci sarà neanche bisogno di fare, ma è un'opzione, è sul terreno, quindi non è che dobbiamo stare lì e continuare a dire che non esiste, siamo vittime della nostra stessa propaganda, Zelensky ce l'ha venuto a dire, ha detto guardate che quello dei russi è un nucleare, è un blef, allora lui ce lo dice, lui ha ragione a dirlo in un certo senso, ma noi non abbiamo ragione a dirlo perché seguiamo il suo ragionamento, non è questo la cosa, quello di dire sì io firmo un accordo che dice delle cose serie, non dice delle stupidaggine, dice delle cose serie, ma delle cose serie e gravi e poi nel stesso momento mentre lo firmo, mentre qualcuno lo firma un altro dice sì però non è legalmente vincolante, allora cosa facciamo? Stiamo firmando una cosa che probabilmente non potremo mantenere o non vorremmo mantenere, non ho capito, adesso noi andiamo e firmiamo gli accordi a livello di governi e poi nell'accordo c'è scritto che comunque l'attuazione di quello che deve essere fatto dovrà essere fatta secondo i procedimenti, le procedure e i limiti previsti dalla Costituzione nazionale, che cosa vuol dire? Che quando ci sarà poi il tempo, la fretta per andare, prendi il Parlamento e gli fai avallare tutto, oppure dici no abbiamo scherzato? Quindi vedo la follia, due o tre volte ci sono stati questi picchi di follia anche molto verbale, ma l'ultimo, il penultimo proprio quello che noi ci ricordiamo di Trump con la Correa del Nord, io ce l'ho il bottone, io ce l'ho più grosso, tu ce l'hai più duro, e così tutte queste cose, ma che non erano neanche cose, non erano neanche butade, neanche quelle, però in altri periodi di questa cosiddetta guerra fredda, ma anche dopo, adesso io sto vedendo, ma da un anno a questa parte, mica prima, e sto vedendo che la follia paradossalmente sta prendendo i leader, cioè è un virus che è concentrato sui leader, non è diffuso, cioè l'epidemia di follia non c'è a livello nostro, noi non ci dobbiamo mettere né la vaccinazione, né le mascherine, né farci la vaccinazione, perché noi già secondo me siamo parzialmente immuni da questa follia, perché io dove sento, sento, ma chiedono a me, ma al generale, ma quando è che finiamo questa guerra? Come sta per dire? Quindi invece a livello di leadership e soprattutto a livello di quella leadership che è una leadership burocratica, è irresponsabile, nel senso che non ha responsabilità oggettiva per i propri atti, è una follia che invece prende questi. Se è un virus vero e stanno male, allora devono essere curati. Se invece è tutto una muina, allora vuol dire che, primo, stanno veramente giocando col fuoco. Secondo, non si rendono conto, cioè non tengono in alcun conto la popolazione, la gente, il tessuto umano e intellettuale della gente. Ecco la forza. Senti, ma una cosa, appunto, hai anticipato, no, che in qualche modo non credi a delle grosse rivoluzioni in campo di alleanze nel caso di vittoria di Trump, però qualcuno, insomma, invece, questo sospetto qua, insomma, e questa interpretazione qua la dà. Mi chiedevo se in qualche modo quella a cui stiamo assistendo ora, qualche volta ad esempio Fazolo mi sembra avesse detto qualcosa del genere da noi, sia anche un po' il tentativo in qualche modo per scongiurare il rischio di andare verso un congelamento e quindi poi con l'arrivo di Trump, insomma, in qualche modo la risoluzione in qualche modo a livello diplomatico del conflitto, se non c'è il tentativo di accelerare in qualche modo prima delle elezioni in modo che la partita non sia poi risolvibile facilmente in qualche modo. Beh, io sai, ho fatto un'osservazione in un articolo per il fatto che qui hanno, degli ultimi giorni, proprio a proposito di questo trattato, di questo accordo, agreement che c'è stato. Tutte queste iniziative vengono fatte con l'idea, secondo me, che la Nato stia per franare, che nell'idea che gli americani si sfilino dalla guerra in Ucraina e non si concentrino molto in quella sui corsi. Quindi sembra che ci sia un atteggiamento di paura che con l'elezione di Trump o comunque anche con il rinnovo di Biden, l'America comunque non sia più presente. E allora se questa corsa a dire chi è che deve essere presente, allora siamo presenti. Se non è presente l'alleanza e non possiamo farlo con l'alleanza perché se no altrimenti andiamo a toccare il livello strategico, lo possiamo fare a livello bilaterale. In pratica c'è, e c'è da un po' di tempo, questo tentativo della Gran Bretagna di farsi la leader, farsi leader di una mini Nato, fra virgolette, non mini come cognome, ma una piccola Nato, una piccola Nato per conto proprio, contando proprio sui rapporti bilaterali. è quella di giocare sul misunderstanding, nel dire io faccio gli accordi bilaterali, così se io voglio partecipare con l'Ucraina non coinvolgo la Nato e lo faccio la sua. Ma è un giochetto che ai russi, così come a chiunque giochi alla dama, no agli scacchi, adama ma nemmeno, lo capiscono subito e non funziona. Quindi quello che stiamo facendo noi con grandi parole e anche grandi dimostrazioni di forza, di unità, è in realtà io ci vedo dentro un grande sottofondo di non credere, di sfiducia in quello che si può fare, di quello che possiamo fare. Cioè in quello di cominciare a dire facciamoci da soli noi le cose perché gli altri non ci aiuteranno mai. E questo è già in luce e concettualmente è già una sconfitta perché partiamo sconfitti su questo tipo di ragionamento. Senti ma dal punto di vista appunto, proprio per capire un attimo se un'ipotesi congelamento diciamo esiste, appunto parlavamo di Advitka, parlavamo di questa seconda linea difensiva d'Ovest di Advitka che non si vede, ci sono un sacco di polemiche anche dal punto di vista di corruzione, tra l'altro ieri è uscito un altro pezzo molto lungo che non ho ancora letto su Foreign Affairs che parlava appunto di questo tema qua in particolare e quanto sta andando avanti sul fronte l'esercito russo e quindi quanto sostanzialmente c'è, è ipotizzabile una vittoria proprio sul campo che costringa comunque a andare a un tavolo della trattativa con lui che impone tutte le condizioni. Il fatto è che non c'è nessuno che possa imporre da solo tutte le condizioni, non le può la Russia, non le può neanche l'America, le condizioni se le possono imporre tutte e due insieme, ma non uno sull'altro. La seconda linea, la seconda linea è un anno e mezzo che non esiste, la seconda linea, è un anno e mezzo, è inutile, quando io mi sono stancato anche di scrivere, non lo scrivo neanche più, la lasciamo perdere, perché dico guardate che quello che sta succedendo sul fronte anche quando c'era questa specie di controffensiva, su 800 km di fondo ci sono questi tipi di uomini, le perdite sono sostanziali, non sono poche, di dietro non c'è niente, l'esercito territoriale che è, fra virgolette, territoriale che dovrebbe stare e dare manforte alla parte davanti, non esiste, l'esercito territoriale deve tenere il fronte interno, deve andare a reclutare uomo per uomo, andare dentro le case, prendere i ragazzi di 17 anni oppure i vecchi di 72 e portarli a combattere, quella fascia lì di forze è già spesa per questo mantenimento, fra virgolette, del potere interno. Per combattere A non c'è, non c'è nessuno, ci sono gli stessi che si devono riciclare, ci sono gli stessi che come ho visto in alcuni commenti anche da parte ucraina, sono quelli che stanno al fronte oltre proprio i limiti e sai, una cosa è andare al fronte e fare un turno di fronte, di prima linea di 4-5 mesi, è una cosa andare lì e non sapere neanche quando potrai essere rilevato o sostituito, quanto ti viene, ma perché non lo sai? Perché sai te stesso che da dove sei partito, che il tuo villaggio e la tua piccola cittadina non c'è più nessuno là che possa venirti a dare una mano. Ecco che secondo me, qui torniamo al ragionamento di Macron, Macron sa le informazioni, i francesi hanno le informazioni del fronte interno, molto più degli americani, perché è da prima degli americani che loro sono là a fare anche i mercenari per, tra virgolette, per qualcun altro. Per cui si rende conto che la situazione è quella demografica una e poi anche di motivazione. Zelensky la tiene ancora in mano tutte queste cose, però lui stesso è in difficoltà, io non vedo bene. E uno sull'altro, che qualcuno possa imporre, non c'è nessuna prospettiva. Guardate, non c'è prospettiva. La Russia quello che potrà fare sarà arrivare a consolidare le posizioni, a Kherson, togliere di mezzo un po' di minacce sulla Crimea, incidere su Odessa e ricongiungere, se avrà voglia e se potrà farlo, la questione con la Transnistria. Per cui mettersilo e stabilizzarsi lì. Ma non sarà questa comunque una cosa che potrà mantenere a lungo. Allora, senza imporre a nessuno, qui non c'è nessuno che militarmente possa prevalere. Se gli americani e gli europei continuano a dare armi e gliene danno veramente, siamo sempre punte da capo. Un chilometro e mezzo lo riprenderanno e due chilometri li devono lasciare. E nel frattempo si consuma, si consuma tutto. Chi si consuma prima, perde. Chiaro, chiaro. No, senti, invece mi chiedevo, appunto, è stata approvata la missione Aspides, mentre si votava la missione Aspides, grande, diciamo, sfavillio di spirito patriottico, perché abbiamo abbattuto un drone. Quanto è, cos'è stata quell'operazione lì? È davvero, c'era bisogno delle prime pagine dei giornali per dire che avevamo abbattuto un drone? Non lo so, sai, anche qui stiamo proprio nella guerra di propaganda. Tutto fa comodo, tutto fa brodo. Il fatto che ci sia una nave come il Caio d'Uilio che sta lì è già un elemento di prestigio ed è giusto per noi, per la nostra marina, per la nostra politica, tutto quello che si vuole. Poi il fatto in sé che ci sia un drone che viene abbattuto a cannonate, voglio dire, non è che è partito un missile intercettato, automatico, che ha preso a vista, ma a cannonate. È stato un cannoniere che l'ha guardato, l'ha visto e gli ha sporato anche col cannoncino da bordo, però ha un suo valore, un suo valore di carattere motivazionale se si vuole e politico. Non bisogna, io l'ho sempre detto, non bisogna però mai esagerare con la questione delle motivazioni, perché la propaganda a un certo punto si rivolta contro. Perché là dove vai a incidere, agitando e sollevando le speranze, sollevando anche l'orgoglio nazionale, poi se è artificioso a questa manovra come normalmente è, perché la propaganda questo è, nel momento in cui c'è il piccolo neo che compare, è già una catastrofe. Tutti scappiamo, cosa ci stiamo a fare? Quindi secondo me ci vuole molta, molta cautela, molta prudenza e anche molta umiltà, perché bisogna essere umili, perché andare lì e fare gli eroi è semplicissimo, guarda non ci vuole niente, basta che ti prendi un giornalista qualsiasi, il quale ti fa due interviste e cose e te sei già su tutte le cose. Poi dopo, quando invece viene fuori che c'è il giornalista che ti frega, come è successo a Buracchia, all'ammiraglio con quello di famiglia cristiana, che gli pubblica le stupidaggini, poi dopo tutti quanti se la prendono con lui, quindi è una, è una, di essere attenti, di essere attenti e non bisogna essere vittime della propria propaganda. Senti, ma volevo capire se secondo te questa missione qui può davvero essere esclusivamente difensiva oppure necessariamente o molto probabilmente diciamo sfona in qualcos'altro? Ma guarda, questo riguarda esclusivamente le regole di ingaggio, cioè questi vanno lì, siamo d'accordo, devono stare in acque internazionali, se poco a poco s'azzardano entrare in un'acqua territoriale, che lì sono tante, quelle dello Yemen, quelle dell'Oman, quella di Teheran, dall'altra parte, andiamo veramente verso un conflitto che comincia a diventare insostenibile, nel senso che dal punto di vista giuridico comincia a diventare molto labile. La necessità nelle regole di ingaggio, che cosa abbiano avuto, se hanno avuto come immagino regole di ingaggio esclusivamente difensive, nel senso di dire, di rispondere a minacce d'attacco, questa è una cosa secondo me doverosa, bisogna farla in questa maniera. C'è però qui sempre l'alea dell'interpretazione, dell'interpretazione non tanto delle regole, l'interpretazione di che cosa sta succedendo. Ora, se un barchino ti si avvicina, tu gli spari quattro colpi d'avvertimento e invece di capire degli avvertimenti ammassi tre, quattro persone e il barchino è nelle sue acque e tu sei nelle sue acque territoriali, siamo all'incidente dell'India, che non è che ci ha portato molto bene, ci sono famiglie ancora distrutte per quella storia, anche a casa nostra, non solo a casa indiana. Per cui è lì chi valuta la minaccia? Il tempo anche di valutazione è veramente ristretto. Un drone, se è un drone che ti sta attaccando o un drone che ti sta guardando, se è un drone dei nostri, si riesce a vedere a un chilometro, un chilometro e mezzo come è combinato, ma se è un drone di quelli iraniani o anche di altra fabbricazione, che sono mix, possono guardare solo, possono ascoltare o possono anche sparare, è difficile, nel dubbio sparo su tutto è una cosa che non funziona molto bene. Ecco che, ecco che, io più che andare a vedere come reagiscono, io vorrei vedere in base a che cosa reagiscono, cioè quali sono, non solo le regole scritte che sono quelle qua, ma come sanno i soldati e i marinai che sono sulle navi qual è il limite per il quale loro devono sparare su tutto e invece non sparare per niente. Non lo so. No, perché lì un pochino la cosa, c'è stata un'intervista parecchio bruttina, secondo me, sul libro di questo De Vergottini, che è un costituzionalista, che... No, perché lì appunto era un po' il linguaggio, perché appunto, comunque la difesa è anche difesa preventiva, se individi da dove lanciano, insomma, cioè mi sembrava che insomma, ora spero fosse insomma solo lui che diceva una roba sua nella sua testa, però appunto insomma questo limite, no, tra il difensivo e l'offensivo è sempre molto difficile da segnalare, inoltre aggiungo una cosa, perché subito dopo l'incidente italiano, cioè l'episodio che ha coinvolto la Caio Duilio, c'è stato l'evento che ha coinvolto, il doppio evento che ha coinvolto invece la, come si chiama, MSN, adesso mi ricordo, quella tedesca, no? Per cui prima hanno lanciato su un MQ-9, un Reaper americano, e il primo problema hanno lanciato due missili che hanno fatto scilecca entrambi, e da cui poi è scoppiata sta polemica qua, nel senso che non solo questi fanno scilecca, ma non sanno nemmeno la possibilità di riarmarli, no? Cioè non esiste più il produttore sostanzialmente, no? Per cui insomma, e poi appunto c'è stato un doppio drone tirato giù, ma emergeva un pochino proprio la debolezza, no? Di questa missione qua, che molto facilmente, diciamo appunto l'esempio dei missili che non si possano, proprio non esistono per riarmarli, insomma, molto facilmente si può arrivare alla saturazione, e quindi diciamo, ammette in pericolo, no? Le imbarcazioni che sono lì, e quindi appunto essere tentati a, spinti a fare azioni un po' preventive, e tra l'altro azioni preventive che probabilmente dovremmo anche, in qualche modo, comporterebbero anche il coinvolgimento dell'altra missione, perché per fare queste azioni preventive noi possiamo dargli intelligence, però poi non abbiamo proprio come le colpiamo queste robe qua. Quindi diciamo, mi sembra che ci siano dei confini, ecco, io ad esempio non sono stato particolarmente allarmistico sull'idea di mandare una flotta lì che difende le imbarcazioni civili, giusto anche solo per rassicurare le assicurazioni, ecco, che tengano dei prezzi un po' bassi, no? Cioè nel senso, è una roba che ha senso, però mi sembra che tutto, insomma, ci siano parecchi margini di difficoltà e di escalation un po', non so. Allora, qui tu hai nominato un grande giurista studioso, che ovviamente mette in luce l'aspetto giuridico internazionale, cioè il diritto internazionale, cosa si fa e cosa non si fa. è vero, è vero, guarda, l'autodifesa è assicurata a tutti, nel senso che questi possono fare veramente autodifesa e l'autodifesa dal punto di vista giuridico è prevista, quindi non è che ci possa fare. C'è però il livello che non è soltanto quello del diritto internazionale e delle condizioni in cui questi qua, c'è il livello proprio del combattimento, la parte operativa. Allora lì una cosa fondamentale è questa, queste missioni partono senza pianificazione, non possono pianificare, partono soltanto con degli ordini di carattere generale dal punto di vista politico e poi sta al comandante a decidere che cosa deve fare, quale tipo di azione deve fare oppure di farla anche insieme ad altre navi, ad altre forze. Quindi qui, attenzione, non abbiamo noi una base solida di comportamento. Tra l'altro se abbiamo avuto un po' di esperienza in questo campo, l'abbiamo avuta con i pirati, con la pirateria, ma voglio dire che sono cose diverse, i pirati fanno del tipo di azioni per determinati scopi, questi la fanno un'altra e fanno anche un altro tipo di azioni, questi si bombardano e si tirano da terra, non è che si tirano da una barca che vuole assaltare un'altra. Quindi ecco che allora lì è fondamentale che il comandante o comunque quello che comanda l'operazione abbia già acquisito una certa dimestichezza, prima col diritto internazionale e lo deve sapere e senz'altro lo sa la memoria, ma secondo con quello che la propria nazione può fare e non può fare. Cioè i limiti, i vincoli per i quali lui come comandante italiano, non come comandante della flotta e può essere anche internazionale, ma lui come comandante italiano deve rispondere poi ai suoi magistrati italiani. E noi abbiamo tutte le volte che non c'è pianificazione, non c'è norma di condotta chiara, non ci sono regole d'ingaggio che sono chiare. Perché vedi, io mi ricordo quando c'erano le regole d'ingaggio, leggevo quelle americane quando sono nato per quelli che erano impiegati in Iraq. Ha il diritto di sparare per autodifesa di fronte a un intento malevole. Allora malevole l'intente, era proprio il problema. Ma cosa vuol dire l'intenzione maligna di qualcuno? Allora se tu vedi uno che ha un fucile dall'altra parte, solo perché ha il fucile è maligno oppure devi aspettare qualche altra cosa per vedere che si faccia. In pratica avevo io concluso con questa storia che bisogna andare a valutare le intenzioni e non quello che sta succedendo, ma finire che a ogni soldato gli dobbiamo mettere a fianco uno psichiatra che gli dice guarda quello lì è uno psicanalista, quello lì c'ha l'intenzione. La stessa cosa è per la questione delle navi. Il diritto dice una cosa, la parte dell'autodifesa si consente tanto, si può consentire anche fino troppo. Se dal punto di vista nazionale non ti vengono imposti dei vincoli e ti dicono guarda amico mio, un vincolo io l'ho sentito dire quando avevamo le operazioni in Afghanistan. Il vincolo era non portiamo a casa morsi. Che cosa devo fare io che adesso vado là, signor Ministro? Non portate a casa i morsi, non mandateci i morsi indietro. Allora, se già questo è un indirizzo, ma io non penso che nessuno fino ad oggi né alla Aspides né alle altre operazioni abbia mai dato un indirizzo di questo genere di carattere cautelativo, non c'è. Quindi se manca questo adesso non ci dobbiamo soltanto affidare ai comandanti, ai comandanti sul terreno, io sul terreno così come sulle navi io sono convinto che sanno benissimo quali sono i limiti. Certo che bisogna che anche loro abbiano poi una capacità di discernere e una capacità di valutare il riflesso di carattere strategico e politico che la loro azione comporta. È qui che sta la grande evoluzione della professione militare degli ultimi 50 anni. Oggi un soldato, un marinaio, un comandante ma anche un semplice tenente ha valore strategico perché ha degli armamenti, delle cose capaci ed è posto in situazioni in cui la parte politica può essere subito influenzata. Da un'operazione stupida che può essere sul terreno si arriva direttamente alla parte diplomatico-politica. Un incidente internazionale per un soldato che magari fa una cosa che non doveva fare. Incidente internazionale. Ci armiamo tutti perché è successo qualche cosa di questo genere. sconfinamento. E lì gli sconfinamenti in quest'azione secondo me sono all'ordine del giorno. Nel senso che tra tutte queste acque nazionali e internazionali, possibilità dei droni di venire anche nelle acque internazionali, di difendersi ma comunque anche di prevenire. Perché se una direttiva non mi portare a casa i morti, guarda, quello deve prevenire. Piuttosto che portare a casa uno ferito ne ammazza 50. Non è che ci va bene, che si può discutere tanto. Però ecco lì. Noi adesso abbiamo comandanti, io adesso da molto tempo abbiamo comandanti molto equilibrati, per cui io sono fiducioso da questo punto di vista. Ma la situazione la situazione in cui vengono messi non è facile. Non è una guerra, fra virgolette, di quelle convenzionali. È vero che è anche asimmetrica, perché questi si stanno sparando con dei droni e sono in posti inaccessibili, figurati. Poi se ne fregano se li bombardi, perché ormai sono 30 anni che li bombardano tutti, li bombardano uno più, uno meno. Non è che fanno molta differenza. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie mille Fabio, come sempre è stato veramente un piacere fare questa piacere con te. Ringraziamo tutti gli Ottoliner che ci hanno seguito. Ci rivediamo, penso che questa la trasmettiamo sabato mattina, quindi domani sera con la bolla, con Stefano Orsi. Grazie ancora Fabio, buona giornata, anzi che la trasmettiamo la mattina. Buona giornata a tutti. Grazie.